Il trombonista internazionale, nonché neopresidente del Vivaldi, questa è una cosa che fa piacere non solo te, ma anche a noi salmettesi per presentare questi eventi. Lunedì a Salmetto, poi offrita quindi riuscendo a gestire musica pop e musica classica, ovviamente per te è un discorso quasi quotidiano. La musica è tutta musica, bisogna rispettarla comunque sia. E poi per esempio lunedì al Seventeen Time verrà un fior di gruppo fantastico, i Savannah Funk, che suonano, sono il gruppo Spalla pure lì al Giova Beach, quindi insomma già dal primo del Covid che avevamo iniziato con loro e poi adesso le continuano a suonare con Giovanotti. Quindi insomma sono fantastici e le avremo qui proprio alla Palazzina Azzurra lunedì alle 21.30 e quindi insomma sono veramente orgoglioso di averli portati qui con l'associazione Expanse, insomma tutti insomma con loro che è importante questo Seventeen Time. E poi a Offida, che sono proprio contentissimo, ho portato qui, insomma faremo tre concerti con la Sestetta Austria con gli Hallerstadt Pfeiffer, che sono insomma noi siamo sempre questo quintetto che già esiste da 35 anni che esiste, quindi io suono con loro da 30 anni che suono con loro perché da quando sono arrivato in Austria e loro adorano qui che non potete immaginare. Poi Offida particolarmente proprio, ma non perché vuole fare campanellismo, ma proprio loro veramente sono rimasti affascinati da Offida e ci hanno qua in mente proprio sempre. E la zona nostra qua di San Benedetto, insomma è bellissima pure. Il Piceno intorno. Il Piceno intorno, se sia la verità. Tutti gli anni vengono in vacanza qua e allora prima già abbiamo fatto questi contratti e poi dopo non si è potuto fare prima del Covid, quindi adesso si può fare. E insomma ce l'abbiamo fatta a farli e quindi sono proprio veramente tanto felice poi di stare a Castignano. Staremo il 22, il 23 staremo a Grottamare in Piazza Vazzinera e appunto il 24 poi a Offida nella piazza bellissima di Piazza del Popolo, fantastica.